Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, un chilometro di coda per lavori, tra in Cisaregello e Firenze sud, in direzione nord. Sulla Firenze mare, rallentamenti per veicolo in avaria, tra Chiesino Azzanese e Monte Catini Terme, nella carreggiata verso Firenze. E arriviamo in Fipili per lavori, rallentamenti verso Firenze, tra in Polieste e la Strassigna, in carreggiata opposta tra la Strassigna e Montelupo. Ricordiamo che si tratta di interventi per il miglioramento della sicurezza, percorsi alternativi sulla SP12 o per i tragitti più lunghi sull'autostrada 11. Prima di salutarci per il traffico ferroviario, l'Intercity 583, Milano Centrale e Napoli Centrale, sta viaggiando con 21 minuti di ritardo. Il transito ad Arezzo è al momento previsto alle 11.32, salvo recupero. Muoversi in Toscana Infi, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!